Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Prima di iniziare con il video di oggi ringrazio lo sponsor di questo video, ovvero un'altra Non mi sono mai aperta particolarmente con voi su questo argomento, ma immagino sappiate quanto per me sia importante il benessere psicologico, dati i video che vi propongo. Ho avuto bisogno di andare in terapia anni fa e devo dire che mi ha aiutata tantissimo. Ecco perché oggi sono qui a proporvi un percorso con Uno Bravo. È un servizio di psicologia online che offre un supporto psicologico affidabile, competente e soprattutto empatico. Supporta quindi le persone nel percorso verso il proprio benessere psicologico. Ognuno di voi può chiedere in qualunque momento il supporto di uno degli psicologi di Uno Bravo che saprà guidarvi nel vostro percorso verso l'amore per voi stessi. Scegliere infatti di intraprendere un percorso di terapia è un vero e proprio gesto d'amore verso noi stessi. Ci permette di prendere consapevolezza delle nostre potenzialità e acquisire sempre di più la capacità introspettiva di guardarsi dentro, accogliendo e accettando anche i nostri limiti. Uno Bravo garantisce inoltre un percorso di qualità. Avrete infatti la possibilità di trovare tra un bacino di 5.000 professionisti quello giusto per le vostre necessità. È un servizio comodo dato che è fruibile online e accessibile anche per quanto riguarda il prezzo. Sarà proprio Uno Bravo che vi consiglierà lo psicologo più adatto a voi tra tutti i loro professionisti sulla base delle vostre esigenze. Quindi chi aspettate? Se state pensando di iniziare a fare terapia ma siete un po' intimoriti dai prezzi o dall'idea di andare di persona da un professionista potete affidarvi a Uno Bravo. Il primo incontro conoscitivo è gratuito e il servizio è flessibile quindi è adatto anche per chi non ha molto tempo. Potete parlare con il vostro psicologo da ovunque vi troviate e nella fascia oraria che più preferite. Potete trovare linkato nell'info box e pinnato nel primo commento il questionario di Uno Bravo da compilare tramite il quale poter individuare il percorso terapeutico più adatto a ciascuno di voi. Ho da proporvi anche il codice sconto del 10% valido sulle prime tre sedute a pagamento riservato solo ai nuovi utenti del servizio. Io ringrazio Uno Bravo per avermi dato questa opportunità e ora iniziamo col video. La gelosia è un'emozione intensa che può portare a comportamenti estremi, incluso il crimine. E il 2003 ci troviamo nell'Australia sud orientale, precisamente nella popolosa Sydney, la capitale del nuovo Galles del Sud, uno stato ricco di città costiere e parchi nazionali. Qui la diciottenne Lindsay Van Blanken vive con la sua famiglia. Lindsay nasce nel 1985, i suoi genitori si chiamano Cynthia e Ron e ha una sorella maggiore di nome Louise. Lindsay viene descritta come una ragazza piuttosto tranquilla e timida, specialmente con le persone che non conosce o con cui ha poca familiarità. D'altro canto, è adorabile e gentile, inoltre è anche un'artista talentuosa. Lindsay ama progettare e realizzare animazioni, trascorre ore e ore a disegnare su un piccolo tacquino le bozze dei diversi personaggi da ideare. Questo è l'ambito in cui vuole affermarsi nella vita, il suo sogno, intraprendere una carriera basata sull'arte e sull'animazione. Quanto alla situazione familiare, i genitori di Lindsay, Ron e Cynthia, all'epoca in cui si verifica il caso, nel 2003, già non stanno più insieme da tempo, si sono separati. La ragazza vive con sua madre, anche se ha contatti irregolari con il padre. Due anni prima, nell'aprile del 2001, Cynthia si è risposata con un uomo di nome David Pleasance, che dunque è diventato il patrigno di Lindsay. È proprio durante il matrimonio che Lindsay, al tempo sedicenne, incontra un giovane di nome William Harold Matheson, detto Will. Will è più grande di lei di un paio d'anni e durante le nozze suona il violoncello, fa parte del quartetto d'archi. In occasione di questo lieto evento, Will inizia a chiacchierare con Lindsay e con la sua migliore amica, Joyceline. Lindsay si trova a suo agio con Will, lui sembra proprio simpatico, così sperano di rimanere in contatto anche dopo il matrimonio. Si scambiano i numeri di telefono, iniziano a parlare abbastanza frequentemente e in seguito decidono di uscire insieme. A entrambi piace molto la compagnia dell'altro e poi vivono molto vicini. Lindsay abita in un piccolo subborgo di Sydney, Queen's Park, che si colloca a dieci minuti di distanza dalla casa di Will, in un subborgo costiero chiamato Koji. Ben presto i due ragazzi diventano ottimi amici, ma poi col tempo questa amicizia si trasforma in una relazione sentimentale. Lindsay tuttavia nasconde questa storia ai suoi familiari per un po', anche se loro conoscono Will. Soltanto dopo alcuni mesi, Lindsay decide di confidarsi. La sua famiglia quindi non sa molto su questo ragazzo, ma ha notato alcuni cambiamenti in Lindsay nell'ultimo periodo. Tanto per cominciare, Lindsay esce di notte e all'improvviso si incontra con Will e sta fuori per ore. A quanto pari, i due fanno lunghe passeggiate nei parchi locali, oppure si ritrovano nel cimitero della zona. Questo è un comportamento decisamente insolito per Lindsay. La sua famiglia inoltre nota che lei ha iniziato a sperimentare nuove acconciature e a vestirsi in modo diverso, stravolgendo il suo stile e richiamando quello di Will. Ora Lindsay indossa spesso dei cappellini, proprio come lui, e addirittura parla come lui, ripetendo parole e frasi che Will è solito pronunciare. Lindsay, insomma, in un certo senso diventa un'altra. Sua madre Cynthia e suo patrino David sono piuttosto preoccupati per questa influenza così drastica che Will sta avendo sulla personalità di Lindsay. Temono che lui la controlli, che la manipoli per renderla più simile a lui. Eppure in partenza, Lindsay e Will erano due persone molto diverse che non sembravano avere molto in comune. Come detto, lei è timida e tranquilla, ma anche molto solare. È una creativa, un amante dell'arte e dei colori. Will, invece, rivela una personalità opposta. È un tipo alquanto oscuro, adora leggere fumetti horror e ascoltare musica che veicola, temi agghiaccianti come la violenza o lo strangolamento. Will, alla compagnia delle persone, preferisce quella dei numerosissimi topi e furetti che tiene nella sua camera, liberi di scorrazzare. Probabilmente i parenti di Lindsay non sbagliano. Will vuole che la ragazza cambi per lui, aderendo al suo stile. Tuttavia, mentre le persone vicine a Lindsay notano questi suoi cambiamenti, lei stenta a riconoscerli. La relazione tra Lindsay e Will prosegue e lei, per fortuna, non rinuncia alla sua grande passione. È sempre immersa nei suoi disegni e inizia a condividere alcune delle sue opere online, dialogando con altri utenti che amano l'arte come lei, che si interessano all'animazione e ai videogiochi. In questo contesto, nel 2002, inizia a chattare con un ragazzo di nome Brandon Leonard, che ha qualche anno in più di Lindsay e vive a Seattle, negli Stati Uniti. I due sviluppano un'intesa molto velocemente, parlano online ogni singolo giorno, giocano insieme ai videogiochi, si sfidano e col tempo diventano grandi amici. Le loro conversazioni ora avvengono anche tramite email, infine iniziano a videochiamarsi. Lindsay e Brandon si piacciono davvero tanto, ma ormai non solo come amici, hanno una cotta l'uno per l'altra. La ragazza quindi comincia a distaccarsi da Will, perché riconosce di avere una connessione molto più profonda con Brandon. Dunque non gli parla più così spesso, lo vede sempre meno, anche se fatica a rompere ufficialmente con Will. L'idea di mollarlo la rende nervosa, forse perché è la prima volta che Lindsay si trova in una situazione del genere. Will è il suo primo fidanzato, quindi è insicura su quale sia il modo migliore per lasciarlo. E in realtà c'è dell'altro. Lindsay è spaventata all'idea di lasciare Will, perché lui le dice sempre che, se lei vorrà troncare la relazione, lui si farà del male. Will minaccia di togliersi la vita e ovviamente Lindsay non vuole farlo soffrire, quindi non sa come uscire da questa situazione. Will ha una personalità manipolatrice e Lindsay ha timore di affrontare l'argomento con lui. Intanto quindi si allontana, frequentandolo sempre meno e rafforzando il rapporto con Brandon. Nonostante i due abiti non lontani e quindi non riescano a vedersi di persona, sono tanto premurosi l'uno con l'altra. Non a caso, questa volta i genitori di Lindsay osservano in lei nuovi cambiamenti positivi, sta tornando a essere la ragazza che era prima di mettersi con Will, dunque sono molto contenti. È chiaro che Lindsay sente di poter essere se stessa con Brandon. Mentre la relazione di Lindsay e Brandon procede bene, anche la carriera della ragazza sembra potersi avviare in modo davvero promettente. Lindsay ha fatto domanda per il lavoro dei suoi sogni, per un incarico come artista tirocinante presso un ufficio di animazione della Walt Disney a Sydney. Ha inviato le sue opere d'arte e le è stato fissato un colloquio, quindi, come potrete immaginare, Lindsay è entusiasta di questa opportunità. Forse il suo sogno sta per avverarsi, forse potrà svolgere il mestiere che più ama in un'azienda fantastica. E le percezioni di Lindsay non sbagliano, infatti dopo il colloquio viene assunta battendo centinaia di candidati. Non ci sono dubbi, Lindsay è un'artista talentuosa dall'incredibile potenziale. Tutte le persone che le stanno intorno sono così felici per lei e orgogliosi la sua famiglia, gli amici e il suo ragazzo Brandon. La vita di Lindsay non fa altro che migliorare, anche sul versante sentimentale, perché non molto tempo dopo l'offerta di lavoro, Brandon chiede alla ragazza di sposarlo. Certo, la proposta gliela fa online, perché la distanza ancora non ha permesso alla coppia di vedersi, ma Brandon è sicuro di voler passare il resto della sua vita con Lindsay. E lei, che la pensa allo stesso modo, gli risponde di sì. Dopo il fidanzamento ufficiale, Brandon parte da Seattle, negli Stati Uniti, e arriva a Sydney, in Australia, per stare con la sua futura sposa. Il cuore di Lindsay scoppia di felicità in questo periodo, le sembra di camminare sull'arcobaleno, ha trovato il lavoro dei suoi sogni e il ragazzo che ama le ha chiesto di sposarla. Ma sa che ora deve affrontare anche ciò che la turba, visto che la situazione con Brandon si è fatta ancora più seria. Deve trovare il coraggio di chiudere definitivamente la storia con Will Matheson. Come ho già detto, Anne Lindsay spaventa rompere questa relazione, temendo che Will metta in atto le sue minacce di togliersi la vita. Quindi si è allontanata da lui, ma non gli ha mai detto di Brandon. Tuttavia Will sembra non percepire o ignorare la distanza che Lindsay ha posto tra loro due, e quindi l'unica scelta da prendere è quella di farlo sedere e di dirgli chiaramente che lei non vuole più stare con lui. Così, poco prima che Brandon arrivi in Australia, Lindsay comunica a Will che intende porre fine alla loro relazione. Come previsto, lui non la prende affatto bene, è molto turbato, si arrabbia con Lindsay e la sua ira si fomenta quando un giorno la vede in compagnia del suo nuovo fidanzato. Brandon arriva a Sydney nel settembre del 2003, non molto tempo dopo l'inizio dello stage di Lindsay alla Disney. Un giorno Brandon si è incamminato con Lindsay verso il luogo di lavoro della ragazza, ma vengono avvistati da Will. Lui li vede passeggiare mentre si tengono per mano, dunque percepisce che Lindsay lo ha lasciato perché si è innamorata di un altro. Will non vuole permettere tutto questo. Lindsay non merita di essere felice senza di lui. È furioso, così un giorno si presenta all'esterno della casa della ragazza per confrontarsi con lei e il suo nuovo fidanzato. Will ha una forte discussione con Brandon. Si impone sulla soglia di casa e gli urla che Lindsay è sua, è la sua ragazza. Will afferma che lei sta tradendo entrambi perché ha ancora una relazione con lui. Ma noi sappiamo che non è vero, perché a questo punto Lindsay ha già lasciato Will. Inoltre, almeno fisicamente, Lindsay non ha mai tradito Will con Brandon, visto che la loro era una relazione soltanto scritta o telefonica. Brandon non d'accordo a Will, quindi la discussione finisce, ma questo non significa che lui si è disposto a lasciar perdere. Will odia Lindsay perché si sente abbandonato e rimpiazzato, ma allo stesso tempo la vuole ancora, desidera stare con lei. Will inizia a pedinarla. La osserva quando lei esce di casa e la segue ovunque vada. La sta chiaramente perseguitando. Lindsay tra l'altro lo sa, se ne accorta. Ha scoperto che lui la tallona ed è a disagio, anzi, a dirla tutta dopo un po' è proprio terrorizzata. Tuttavia c'è da dire che la ragazza è felice di avere il sostegno del suo fidanzato. Nonostante ciò che sta accadendo con Will, lei è davvero felice insieme a Brandon, è entusiasta di diventare sua moglie ed è emozionata per tutti i progetti che stanno facendo. Pianificano di passare in Natale a casa di Brandon a Seattle, in America, nel dicembre del 2003. Lindsay così incontrerà i parenti del suo futuro marito e trascorrerà il periodo delle feste in loro compagnia. Tuttavia questa ragazza Lindsay non avrà mai il piacere di viverla perché un mese prima della partenza scompare improvvisamente. È il 24 novembre del 2003, Lindsay sta lavorando nell'ufficio di animazione della Disney, poi verso le 17.30, quando finisce il suo turno, si avvia verso casa. Sale su un treno che la porta alla stazione ferroviaria di Bondi Junction di Sydney, dopodiché percorrere a piedi il tratto di strada per raggiungere il subborgo in cui vive, Queen's Park, non molto lontano dalla stazione. Dunque questo tragitto Lindsay lo ha già fatto diverse volte, ma il 24 novembre 2003 non torna mai a casa. E il suo fidanzato Brandon, che vive con lei da un paio di mesi, notando il suo ritardo, prova a chiamarla e le manda dei messaggi, ma la ragazza purtroppo non risponde. Brandon allora avverte sua madre Cynthia e il patrigno David. Neanche loro sanno dove si trovi Lindsay. Quel giorno non l'hanno proprio sentita. Brandon intanto suggerisce di aspettare, ma la mattina dopo, in assenza di novità, coinvolge la polizia. Spera disperatamente che Lindsay varchi presto la soglia di casa, spiegandogli come mai non era rientrata neanche per la notte. Ma purtroppo questa spiegazione Brandon non può ascoltarla e di certo consiste in qualcosa che neanche vorrebbe mai sentire, perché la sua ragazza non tornerà. Come detto, la mattina del 25 novembre, Brandon denuncia alla polizia la scomparsa della sua fidanzata. Così ha iniziato l'indagine sul caso di Lindsay Van Blanken. La polizia raccoglie le dichiarazioni del suo fidanzato e della sua famiglia, apprendendo che non è affatto da Lindsay sparire così, evitando anche di farsi sentire per più di un giorno. Quindi gli agenti temono che le sia successo qualcosa di sinistro. Fin dall'inizio questo caso ha la massima priorità per la polizia e la famiglia della ragazza scomparsa rilascia anche un appello televisivo, chiedendo a chiunque abbia informazioni utili di farsi avanti. Poi Cynthia si rivolge direttamente a sua figlia dicendo Lindsay manchi terribilmente a tutta la famiglia, per favore contattaci. Non vediamo l'ora di sentire le tue ragioni e ti amiamo tutti. Non siamo arrabbiati con te, vogliamo solo sapere dove sei. I cari di Lindsay fanno tutto il possibile per supportare le indagini della polizia. I suoi genitori contattano tutti gli amici e i conoscenti della figlia, nella speranza di ottenere suggerimenti. Poi Louise, la sorella, telefona all'ex fidanzato di Lindsay, Will Matheson. Gli chiede se, per caso, abbia avuto sue notizie di recente. In effetti Will ha delle informazioni da fornire. Risponde a Louise che ha visto Lindsay il giorno in cui è scomparsa, la sera del 24 novembre, dopo che era scesa dal treno alla stazione di Bondi Junction. Dice che si sono incontrati lì, che si sono messi a chiacchierare e che hanno continuato a camminare insieme anche lungo il tragitto, verso la casa di Lindsay, per circa 10-15 minuti. Dopodiché si sono separati nei pressi di un pub, non troppo lontano dall'abitazione della ragazza. Questa è l'ultima volta in cui Will avrebbe visto la sua ex, ma accade qualcosa di inquietante durante la conversazione tra lui e Louise. Ovvero, il padre di Will afferra il telefono e dice questa frase. Beh, non ho visto sangue sulle sue mani. Riferendosi ovviamente al figlio. A Louise questa affermazione sembra inadeguata e sospetta, anche perché lei non stava accusando Will di niente. Gli aveva semplicemente chiesto se avesse visto o sentito sua sorella prima della scomparsa. Allora, perché il padre di Will si è messo sulla difensiva, strappando il telefono di mano al figlio per dire una frase del genere? Louise, stranita, informa la polizia dell'accaduto. Allora gli investigatori stabiliscono di parlare con Will, non soltanto per l'esternazione di suo padre, ma anche perché il ragazzo ha ammesso di aver visto Lindsay la sera prima della sua scomparsa. Anzi, è stato proprio l'ultimo ad averla vista. I detective, a distanza di due giorni dalla sparizione di Lindsay, vanno a casa di Will e gli chiedono di recarsi alla stazione di polizia per un interrogatorio. Lui accetta, si dimostra collaborativo, sembra disposto a fare qualsiasi cosa pur di aiutare nelle indagini. È il 26 novembre 2003 quando a Will viene posta una serie di domande, ad esempio riguardo la sua relazione finita con Lindsay e a questa interessante ultima volta in cui l'avrebbe vista. Alla fine dell'interrogatorio la polizia chiede a Will se può fornire alcuni campioni del suo DNA e lui ancora una volta accetta. I detective quindi gli prelevano le impronte digitali e i dati del profilo genetico. Poi gli chiedono se è disposto a farsi scattare qualche foto e lui si dimostra sempre favorevole a dare il suo contributo. Tuttavia, proprio mentre gli scattano queste foto, gli investigatori notano che il ragazzo ha alcune ferite sul corpo. Sono parecchi i graffi che segnano le sue mani, le braccia e il petto, quindi gli chiedono come se li sia procurati. Will spiega che la causa sono i suoi animali domestici, il suo gatto e i suoi topini lo hanno graffiato. Inoltre ha avuto un piccolo incidente con lo skateboard. La polizia a questo punto sospetta che Will stia mentendo. Forse è davvero coinvolta nella scomparsa di Lindsay e quelle ferite derivano da uno scontro violento con lei. Ma allo stesso tempo i detective non hanno prove concrete a sostegno di questa teoria, quindi sono costretti a lasciar andare Will dopo l'interrogatorio senza mai smettere di cercare Lindsay. Vengono inviate delle squadre di sommozzatori in tutti i laghi o specchi d'acqua locali. Alcuni agenti perquisiscono i parchi e i boschi della zona alla ricerca di indizi, mentre altri parlano con ulteriori persone che conoscono Lindsay. Familiari, amici e soprattutto l'attuale fidanzato Brandon vengono nuovamente interrogati e a lungo affinché si possa escluderli con sicurezza dalle indagini. Intanto i cari della ragazza realizzano e stampano dei manifesti con la fotodescrizione di Lindsay che poi distribuiscono ai passanti o appendono in giro per la zona. Gli investigatori esaminano anche le telecamere circuito chiuso dell'aria in questione, sperando che Lindsay appaia in qualche filmato per capire dove potesse essere diretta. Uno dei dispositivi installati nella stazione ferroviaria di Bondi Junction riprende la ragazza mentre sta scendendo dal treno quel giorno. Questo quindi conferma che era arrivata lì e che le era successo qualcosa dopo. Come procedura dell'indagine sulle persone scomparse la polizia raccoglie anche le dichiarazioni dei colleghi di Lindsay e uno di loro, Simon, fornisce alle autorità delle informazioni alquanto interessanti. Simon riferisce che nel pomeriggio del 24 novembre ha visto Lindsay litigare con un ragazzo appena fuori dall'edificio che ospita gli uffici. La discussione gli è sembrata molto accesa, stavano urlando l'uno contro l'altro, carichi di rabbia. La polizia deve identificare subito questo giovane ma già sospetta che sia l'ex fidanzato di Lindsay, Will Matheson. Quando mostra la sua foto a Simon, il collega di Lindsay, non ha dubbi, è lui il ragazzo con cui lei ha litigato quel pomeriggio. Quindi i sospetti nei confronti di Will stanno aumentando e la polizia ha sempre più ragioni per credere che il ragazzo sia coinvolto in questo caso. Ma per ora non sussistono prove concrete e solide, quindi non si può ancora agire. Neanche si sa se Lindsay sia viva o morta, bisogna trovarla e intanto continuare a tenere d'occhio Will Matheson. Dopo circa due settimane dall'inizio delle indagini ancora non c'è alcuna traccia di Lindsay. Tuttavia c'è uno sviluppo rilevante per quanto riguarda Will. Il 7 dicembre 2003, nelle prime ore del mattino, Will viene fermato dalla polizia mentre sta camminando a Queen's Park. Gli agenti che lo fermano si trovano in quella specifica zona perché stanno cercando un malintenzionato. Infatti hanno ricevuto alcune segnalazioni su un possibile predatore in agguato nel subborgo. Will viene quindi anche perquisito e i detective scoprono che ha con sé in un grosso zaino degli oggetti strani, quali un rotolo di pellicola trasparente, un disinfettante, delle buste di plastica, dei guanti in lattice e delle torce. Lo zaino tra l'altro contiene anche delle riviste, delle candele e un portacandele, ma non solo. Lì dentro ci sono pure delle forbici, un coltello Stanley, un piccone e un liquido che il ragazzo descrive come acqua santa. Insomma, sono oggetti insoliti da portare in giro. Perché li ha con sé? Dove sta andando e cosa stava per fare? Questo gli chiedono i detective. Will afferma che era diretto al parco locale per fare un picnic. E allora perché ha bisogno di un piccone, di un coltello e di tutti quegli oggetti che si usano per scopi ben diversi? Inoltre nello zaino non c'è nulla da mangiare. Decisamente non è un picnic quello che Will aveva in programma. La polizia ormai considera Will come il principale sospettato nel caso di Lindsay, ma aspetta ad arrestarlo, però lo mette sotto sorveglianza. Rinchiuderlo, infatti, non è una buona idea, visto che non si sa ancora quale fine abbia fatto Lindsay. Se Will la tenesse in ostaggio da qualche parte, metterlo in cella renderebbe più difficile scoprire qual è il nascondiglio. Invece, pedinandolo, Will stesso potrebbe condurre gli agenti nel posto in cui si trova Lindsay, ma purtroppo questo non avviene. Il tempo passa, ma la polizia non riesce proprio a fare passi avanti verso la risoluzione del caso. Poi, circa sette settimane dopo che Lindsay era stata vista l'ultima volta, la polizia riceve una segnalazione. Un uomo ha trovato dei resti umani. Il 10 gennaio 2004, un addetto alla manutenzione viene chiamato in un condominio di Queen's Park Road, la strada in cui vive Lindsay, perché alcuni inquilini affermano di sentire un odore orribile. Pare provenga da un ripostiglio al piano terra dell'edificio. L'addetto intende quindi controllarlo, ma scopre che un vecchio materasso è stato posizionato davanti alla porta del ripostiglio, come per ostacolare l'accesso. L'uomo lo sposta, apre la porta e viene investito da un tanfo insopportabile. Lo reputa davvero disgustoso e opprimente. A questo punto immagina che nel ripostiglio ci sia il cadavere di un animale morto, che magari vi è rimasto intrappolato, quindi quell'odore potrebbe essere legato alla decomposizione del suo corpo. L'addetto alla manutenzione si addentra nel magazzino con il naso tappato e comincia a guardarsi attorno. C'è molto disordine, dei vecchi mobili, degli scatoloni pieni di cianfrusaglie, persino della spazzatura. Non sembra facile individuare il corpo senza vita di questo animale e l'uomo comincia quindi a spostare gli oggetti, fino a quando nota qualcosa in un angolo della stanza. È una grossa borsa sportiva da cricket riposta sotto alcuni mobili. Il manutentore prova a recuperarla e si rende conto che è molto pesante e infatti fatica a trascinarla fuori. Una volta che la sposta nei pressi della porta cerca di aprirla. Siccome la cerniera è inceppata, l'uomo afferra un coltello e pratica un foro nel borsone per vedere cosa c'è dentro. Ma prima ancora di avere la possibilità di guardare, nota qualcosa che sporge fuori. Il manutentore ci mette un po' prima di capire di cosa si tratti. Poi non ridisce. Quella è una mano. All'interno di questa borsa c'è un cadavere umano in stato di decomposizione. Appena fa questa terrificante scoperta, l'addetto alla manutenzione chiama la polizia, che accorre sul posto e conferma l'impressione dell'uomo già avvertendo l'odore. Il corpo senza vita sembra appartenere a una giovane donna che è stata chiaramente assassinata, poi nascosta in un borsone infilato sotto un mobile di un ripostiglio pieno di roba. Intorno al suo collo, legate molto strette, ci sono ancora delle fascette stringicavo. Questo suggerisce che la vittima è stata strangolata. La polizia deve subito identificarla, ma è quasi certa che il cadavere decomposto appartenga a Lindsay Van Blanken, la diciottenne scomparsa sette settimane prima. I vestiti che indossa aderiscono all'abbigliamento che Lindsay aveva il giorno della sua scomparsa. Si tratta nello specifico di una giacca di pelle nera e i cari di Lindsay avevano informato la polizia che la ragazza l'aveva con sé quando è sparita il 24 novembre. Le impronte dentali di cui la polizia è già entrata in possesso tramite il dentista di Lindsay lo confermano. Il corpo senza vita scoperto nel ripostiglio appartiene proprio a Lindsay Van Blanken. Sulla scena del crimine non si rinvengono però altri oggetti che la ragazza aveva con sé quel giorno, cioè uno zaino nero, il cellulare e un paio di stivali. Probabilmente l'assassino li aveva sottratti. La polizia, sempre più convinta che sia l'ex fidanzato di Lindsay, Will, la persona responsabile di questo delitto, ha bisogno delle fatidiche prove concrete per determinarlo. Due giorni dopo il ritrovamento del corpo della ragazza, la polizia, continuando a sorvegliare Will, scopre che lui sta entrando in un ospedale psichiatrico. Viene ricoverato in questa struttura perché apparentemente soffre di schizofrenia e ha dei pensieri suicidi. La polizia non ha il permesso di interrogarlo mentre lui si trova in ospedale perché il paziente non è in grado di rispondere a nessuna domanda. Allora mentre Will rimane nell'unità psichiatrica, i detective cercano altre prove che lo colleghino al delitto. Sperano di potergli attribuire la borsa sportiva in cui è stato ritrovato il corpo di Lindsay. Se riescono a provare che quel borsone è suo, che l'aveva comprato o che ne era entrato in possesso nel periodo dell'omicidio, potranno accusarlo e arrestarlo. Fortunatamente la polizia scopre che in zona c'è un solo negozio di articoli sportivi che vende questo tipo di borsa. Si trova nel sobborgo di Bondi Junction e si chiama Rebel Sports, oggi rinominato Rebel Bondi. Quando la polizia parla con i dipendenti del negozio viene a sapere pure che un unico esemplare di quella borsa era stato loro fornito dal produttore per la vendita. E in effetti l'avevano venduta. Si tratta infatti di quella stessa borsa in cui è stato ritrovato il cadavere di Lindsay. Ora bisogna risalire al giorno in cui qualcuno l'ha acquistata e non è un'operazione complicata. La vendita, come comunica al titolare dell'attività, è avvenuta intorno alle 13.30 del 22 novembre 2003. Quindi soltanto due giorni prima che Lindsay scomparisse. E il cliente ha pagato in contanti. La polizia di conseguenza controlla le riprese delle telecamere a circuito chiuso presenti vicino a questo negozio di articoli sportivi. Ovviamente in relazione al giorno 22 novembre 2003. Accanto al negozio c'è un hotel che dispone di una telecamera esterna e quando la polizia esamina il filmato individua Will Madson. Will viene ripreso pochi minuti prima che la borsa venisse venduta, il che dimostra che si trova proprio accanto a quel negozio di articoli sportivi nel momento in questione. Purtroppo la telecamera non lo inquadra quando esce dal negozio, immortalandolo mentre trasportava la borsa appena comprata. Significa che Will non è ripassato davanti a quella telecamera, probabilmente l'ha evitata di proposito. Oltre a ciò la polizia ottiene conferma delle informazioni relative alla borsa anche dal padre di Will, il quale ricorda che il figlio l'aveva acquistata proprio un paio di giorni prima della scomparsa di Lindsay. Il 22 novembre stavano facendo shopping insieme proprio per i negozi presenti a Bondi Junction. Come vedete dalla mappa c'è anche un grande magazzino Kmart lì vicino. Dunque quando Will era tornato alla macchina dopo le compere aveva con sé questa grossa borsa sportiva. Nel tentativo di trovare ulteriori prove gli investigatori conducono delle perquisizioni a casa di Will. Si concentrano sulla sua camera da letto dove individuano diverse cose parecchie interessanti. Come il diario di Lindsay. Perché mai si trova nella stanza di Will? Forse lei lo aveva dimenticato lì prima di porre fine alla loro relazione e lui non gliel'aveva mai restituito? Non è noto se Lindsay avesse con sé quel diario il giorno della sua scomparsa ma se ricordate quando è stata ritrovata già morta il suo zaino nero mancava all'appello. Forse il diario riapparso a casa di Will si trovava nello zaino ancora disperso? Probabilmente Will lo ha nascosto chissà dove. I detective trovano in quella stanza anche un sacco di articoli di giornale riguardanti la scomparsa di Lindsay. Il caso ha fatto davvero notizia sui quotidiani. Ma perché Will ha ritagliato e conservato tutti quegli articoli su Lindsay? In ogni caso la prova più schiacciante emersa nella sua stanza sono alcune registrazioni di un dittafono. Will si era registrato mentre parlava di Lindsay ma riferendosi al passato come se lei non fosse più in vita. Eppure considerando la data delle registrazioni in quel momento si sapeva soltanto che lei era scomparsa ma il suo non era ancora stato trovato. Nessuno sapeva se Lindsay fosse viva o morta tranne Will perché ovviamente era stato lui a ucciderla. Will aveva registrato anche una canzone da lui scritta che sembra proprio parlare dell'omicidio di Lindsay. Il testo iniziale recita proprio l'altro giorno ti ho vista morire. Hai detto ti amo ma per favore lasciami restare. Non ci aiuto né per te né per me. Chiudi gli occhi quando andrai dove sarò io. Ci incontreremo nell'eternità. Onestamente questa è una delle cose più inquietanti che io abbia mai sentito e mi mette un pochino i brividi. Più di due mesi dopo il ritrovamento di Lindsay il 22 marzo 2004 Will viene dimesso dall'ospedale psichiatrico quindi gli investigatori possono interrogarlo finalmente di nuovo per cui lo portano alla stazione di polizia. Gli viene chiesto della borsa sportiva in cui è stato trovato il corpo di Lindsay. Secondo quanto riporta un articolo Will ha ammesso che il borsone era suo ma sostiene di averlo perso prima che Lindsay scomparisse. Quindi non era in suo possesso quando la ragazza è stata uccisa. Ovviamente la polizia non gli crede. Del resto come si fa a perdere una borsa di quelle dimensioni? A seguito di questo interrogatorio la polizia conduce Will Mathson nel luogo in cui sono stati trovati i resti di Lindsay. Entrano nel condominio a Queen's Park Road e raggiungono il ripostiglio. Suppongo che la polizia volesse stimolare qualche trigger in lui spingendolo a confessare ma Will non confessa un bel niente. Al termine di questo sopralluogo la polizia lo riporta in centrale e lo sottopone a un altro interrogatorio e a questo punto Will fa un'ammissione. Riferisce che aveva sentito delle voci nella sua testa le quale gli dicevano che aveva bisogno di fare del male a se stesso e a Lindsay. Aveva bisogno di uccidere delle persone non Lindsay in particolare secondo queste voci. A maggio del 2004 la polizia ritiene di aver raccolto prove sufficienti contro Will Mathson quindi lo arresta e lo accusa dell'omicidio di Lindsay. Dopodiché saltano fuori ulteriori prove. La polizia recupera un altro dei diari di Lindsay da uno degli amici di Will. Lui gliel'aveva affidato poco prima di farsi ricoverare nell'unità psichiatrica. Esattamente come per l'altro diario la domanda è sempre la stessa perché c'è la Will? Probabilmente Lindsay gli aveva con sé il giorno in cui era scomparsa e Will gli aveva rubati dopo il delitto? I detective ottengono altre informazioni anche dal padre di Will. Dopo il ritrovamento del corpo di Lindsay in televisione era stata trasmessa la notizia allora Will si era rivolto a suo padre e gli aveva detto papà credo di averlo fatto ho perso la mia borsa sportiva. Quindi aveva fatto una semiconfessione a suo padre. Il processo contro Will Mathson inizia nei primi giorni di novembre del 2005 poco meno di due anni dopo la morte di Lindsay. L'indagato viene processato perché si è dichiarato non colpevole. Il processo però viene interrotto poco prima dell'inizio perché il giudice ribadisce che alcune prove e non si sa esattamente quali non vanno mostrate alla giuria. A quanto pare la giuria ha accidentalmente visto una di queste prove che il giudice aveva vietato di esibire in tribunale. Dunque bisogna aspettare un nuovo processo al cospetto di una giuria diversa. Durante il nuovo processo l'accusa espone alla giuria la propria ricostruzione dei fatti avvenuti il giorno della scomparsa e dell'omicidio di Lindsay in base alle prove raccolte. Si ritiene che questo omicidio sia stato premeditato. Will stava progettando da un po' di uccidere Lindsay perché era arrabbiato con lei. Era furioso dato che lei lo aveva lasciato per Brandon quindi il suo movente è stato la gelosia. Sappiamo che Will l'aveva seguita, perseguitata fino alla sua morte. In un articolo ho letto che due giorni prima della scomparsa di Lindsay Will le aveva inviato un messaggio inquietante composto da due semplici parole. Ti vedo. Voleva quindi che lei sapessi che lui la stava osservando. Infatti la ragazza era terrorizzata. Sappiamo che nel pomeriggio in cui è scomparsa Lindsay era stata vista da un collega di nome Simon mentre discuteva con Will Metson fuori dal posto di lavoro. A distanza di qualche ora quando Lindsay terminato il suo turno era scesa dal treno a Bondi Junction aveva nuovamente incontrato Will che probabilmente la stava aspettando. Si ritiene che dalla stazione ferroviaria si fossero spostati in quel magazzino a piano terra del condominio a Queen's Park Road non lontano dalla casa di Lindsay. Non è noto come Will si è riuscito a convincere Lindsay a recarsi nel ripostiglio con lui. Secondo alcune fonti quando i due erano una coppia si incontravano lì per restare da soli e ascoltare musica gotica. Ma una volta entrati nel ripostiglio Will aveva attaccato Lindsay. Secondo l'accusa c'era stata una lotta violenta tra i due Lindsay aveva cercato in tutti i modi di spingere Will di scappare da quella stanza. Lo aveva spinto e probabilmente anche graffiato visto che Will riportava molti graffi sulle mani sul petto e sulle braccia. Will però era riuscito a sopraffarla aveva infilato delle fascette intorno al suo collo e le aveva strette sempre di più fino a soffocare la ragazza. Dopo averla uccisa aveva infilato il suo corpo in quella grande borsa da cricket comprata appena un paio di giorni prima. Aveva chiuso la cerniera e nascosto il bursone in un angolo nel ripostiglio sotto alcuni mobili. Infine aveva lasciato la scena del crimine riprendendo la sua vita normalmente. Quella stessa sera aveva suonato il violoncello a un concerto. Era stato completamente impassibile nonostante il delitto commesso poche ore prima. E mentre la polizia e gli amici e la famiglia di Lindsay cercavano disperatamente di ritrovarla in quelle sette settimane successive Will continuava a comportarsi come sempre occultando i fatti. L'accusa mostra alla giuria le prove raccolte dalla polizia che collegano l'imputato al crimine. Vengono proiettati i filmati della telecamera a circuito chiuso installata vicino al negozio di articoli sportivi. Vengono mostrati i diari di Lindsay che lui le aveva rubato. Vengono riprodotte le registrazioni al dittafono compresa la canzone che faceva riferimento all'omicidio di Lindsay. Insomma le prove contro Will abbondano. Ciò nonostante la polizia è preoccupata perché si tratta per lo più di elementi circostanziali. Infatti non hanno rilevato alcuna traccia del DNA di Will sul cadavere della vittima che era già in stato avanzato di decomposizione quando è stato ritrovato. Anche l'accusa teme che Will non venga condannato ma dopo tre settimane arriva finalmente il verdetto. Nel dicembre del 2005 la giuria emette la sua sentenza. Ritiene Will Matheson colpevole dell'omicidio della sua ex fidanzata, la diciottenne Lindsay Van Blanken e lo condanna a 27 anni di carcere. Will ne dovrà trascorrere almeno 18 in cella prima che possa essere valutata la possibilità di prevedere la libertà condizionale. A seguito della condanna si registra un importante sviluppo nel caso quando nel 2016 a distanza di più di dieci anni dal delitto di Lindsay viene ritrovato il suo zaino nero, quello che aveva con sé quando è scomparsa. Era chiaro che Will l'aveva nascosto da qualche parte dopo l'omicidio ma lui non ha mai detto dove. Nel 2016 lo zaino nero riemerge dalla sepoltura in un cantiere edile a Randwick, un sobborgo di Sydney che dista una mezz'oretta a piedi da Queen's Park Road dove Lindsay è stata uccisa. Lo zainetto contiene il cellulare, la carta di credito, un lettore cd portatile e un paio di stivali che appartenevano a Lindsay. Ma non è finita qui perché accanto allo zaino vengono rinvenute circa una quarantina di ossa o frammenti ossei che per la maggior parte appartengono ad animali ma circa 12 di quelle ossa sono umane. Chiaramente non appartengono a Lindsay visto che il suo corpo è stato ritrovato sette settimane dopo la sua scomparsa ma la polizia crede comunque che siano state sepolte da Will Melson. Ma qual è la loro provenienza? Un patologo fuori in sé le esamina e conclude che provengono da cadaveri medici precedentemente utilizzati per insegnare l'anatomia a scopo didattico. Fortunatamente quindi non si tratta di altre vittime di Will ma si ritiene che lui fosse entrato in possesso di queste ossa perché amava collezionarle. Alcune fonti affermano che le rubava per poi darle a Lindsay affinché le usassi in alcune delle sue opere d'arte. A quanto risulta Will le aveva nascoste perché temeva che se la polizia le avesse trovate in casa sua avrebbe immediatamente sospettato di lui come poi è ugualmente avvenuto. Come detto Will è stato condannato a una pena detentiva minima di 18 anni che ormai sono passati. Dal maggio del 2022 Will ha potuto richiedere la libertà condizionale tuttavia la sua condanna non terminerà fino al 2029. La madre di Lindsay Cynthia ha affermato in televisione che è convinta che se Will verrà rilasciato ucciderà di nuovo. La sua prima richiesta di libertà condizionale questa del 2022 viene rifiutata mentre la seconda richiesta viene approvata all'inizio di maggio del 2023. Will Matheson viene rilasciato ufficialmente dalla prigione il 27 maggio del 2023 e sta tuttora affrontando dei rigidi obblighi e di vieti in relazione alla libertà condizionale. Deve indossare una cavigliere elettronica ed evitare alcune aree dello stato. Gli è vietata fortunatamente ogni forma di contatto con la famiglia della vittima. Viene monitorato 24 ore su 24, deve continuare ad assumere dei farmaci iniettabili a lunga durata d'azione e sottoporsi a delle cure psichiatriche. Concludiamo così il caso di Lindsay Van Blanken. Una storia orribile. Lindsay aveva ancora così tanto da offrire al mondo e mi spezza il cuore il fatto che prima di morire stesse vivendo un periodo così bello della sua vita. Aveva trovato il lavoro dei suoi sogni e il ragazzo con cui voleva trascorrere il resto della sua esistenza. La vita sembrava così promettente per lei e poi tutto lei è stato crudelmente strappato via da un uomo che, come molti altri, non ha accettato la fine di una relazione. Se non poteva averla lui, allora nessun altro avrebbe avuto la possibilità di stare con lei. Will ha preferito annientare Lindsay, ferire la sua famiglia e finire a lungo dietro le sbarre piuttosto che accettare una lecita scelta altrui. Combattere il senso di possessività, il desiderio di dominio e controllo. La mancanza di rispetto da parte di alcuni uomini per l'autonomia e per la volontà delle donne era allora, come è purtroppo anche oggi, una questione urgente. Io ho finito di parlarvi in questo video, fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso, lo conoscevate e fatemi, insomma, ditemi quali sono tutte le vostre idee in riferimento a questo caso che vi ho appena raccontato. Ovviamente è un caso molto triste, a me dispiace sempre moltissimo quando vengo a sapere di queste, di questi casi che sono tutti molto simili tra loro purtroppo, ma non per questo non li faccio. Ecco, io preferisco sempre portare storie come queste, magari non così spesso, però ogni tanto preferisco effettivamente fare questa scelta, portare queste storie e non tralasciarle. Quindi, io sono qui che aspetto di leggere i vostri commenti e sono molto curiosa. Nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!